ZW Jackson non mi risponde, ma ZW Jackson veramente non ha capito, cioè ragazzi ZW Jackson non ha capito le mie qualità, tutti, io lo dico, tutti, io ve lo giuro, io faccio la 100 tiri challenge e supero tutti, diventerò il primo, farò 50 gol, 50 fottutissimi gol, grazie mille Agostino, grazie mille davvero, grazie mille, molto gentile, grazie mille davvero, ma ve lo giuro, adesso vi faccio vedere due cazzo di pageli, Palleggi, adesso vi faccio vedere due cazzo di pageli, ve lo giuro ragazzi, adesso vi faccio vedere due cazzo di palleggi, ti bacio, palleggi, ve lo giuro ragazzi, vi faccio vedere due cazzo di palleggi, e adesso, sì, mi sono diventato tutti i piedi, e girate la creeper, che è una cosa improponibile, grazie a tutti che non ci sono sampatti, adesso restiamo sulla maglietta, ok, siete pronti? Ti prendo, ti bacio, guardate, ok, ma qua è difficilissimo, cazzo, qua, Metto qua, ok, uno, due, eh no, c'è il cusci, c'è il divano, c'è il divano, c'è il divano, scusate, è difficile, c'è la sciarpa, eh, aspetta, aspetta, Oh, 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 dai, c'ero, c'ero, dai ragazzi, di fianco, veramente, ero attaccato al divano, capitemi, capitevi, davvero, era veramente difficile, Qualcuno non ha paro da pallavolo Ma niente scusi, niente scusi Abbiamo fatto vedere il nostro Il nostro